Non sono mai stata uno tipo da citazioni. Ho sempre preferito, forse anche a causa della mia pessima memoria, interiorizzare il senso di un messaggio, piuttosto che esibirlo verbalmente agli altri. Però c'è una frase che più delle altre in questo momento si è insediata nella mia mente. È una frase semplice, che porta con sé un grande messaggio di coraggio, forza e speranza. Be the change you wish to see in the world. Sì, ma come posso essere io il cambiamento? Ci sarebbero decine di modi per rispondere a questa domanda. Oppure è una soluzione che è dall'infinito, che si arricchisce man mano con le nostre esperienze e dall'interazione che abbiamo con gli altri. La mia personale risposta, per ora, è questa. Essere il cambiamento vuol dire mettersi in gioco sempre, farsi trasportare dalla passione e dall'istinto alla ricerca di nuova avventura, capire che ogni piccola e singola azione può generare grandi rivoluzioni e magari aprire scenari mai immaginati. E soprattutto cercare di non farlo da soli. Potremmo allora domandarci come noi possiamo essere il cambiamento, come intrecciare le nostre storie e mettere insieme le nostre idee. Io ci sto provando. Noi, noi, noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.